Licenziata per aver danneggiato l'immagine della scala, la ballerina Maria Francesca Garritano, che ha denunciato la piaga dell'anoressia nel corpo di ballo, ha dichiarato a dicembre alla stampa britannica di soffrire di frequenti fratture e problemi intestinali dovuti alle diete rigide cui è stata sottoposta. La scala ha dichiarato che la didattica è ormai cambiata.